Il Catania si gode la vetta e guadagna due giorni di riposo che difficilmente si potrà ritrovare nel corso della stagione al di là della pausa natalizia. I rossazzurri infatti resteranno fermi oggi e domani, prima di tornare a lavorare nel pomeriggio di lunedì in coincidenza della prima seduta settimanale. Lucarelli gongola perché la sua squadra detiene diversi primati, non solo quelli in classifica, poiché oltre a non vincere e non subire gol da cinque partite, i rossazzurri hanno anche la miglior difesa. Questi giorni servono quindi a recuperare fiato, ma anche a consentire a qualcuno di avere maggior gamba. E' il caso di Ripa che migliora giorno dopo giorno e punta ad alzare il minutaggio, ma anche di Biagianti che risente dell'acciacco che non gli ha permesso di giocare contro il Monopoli. Nel frattempo però c'è un ottimo Mazzarani che sta imparando a giocare da mezzala come gli ha chiesto Lucarelli e nelle ultime due partite ha già fatto vedere cose molto interessanti. Tutti i fattori importanti per il Catania soprattutto in vista della ripresa del campionato dei rossazzurri che sabato 14 saranno ospiti del Siracusa e domenica 22 giocheranno il derby del Massimino contro la Sicula Leonzio. Due partiti importanti che vogliono dire tanto per la classifica del Catania e che se portassero 6 punti darebbero serie indicazioni per il proseguo del campionato.